Eccoci qua, siamo a Piazza del Museo. Questo buco qua, signor sindaco, se passa un bambino o qualcuno, praticamente si fa veramente male, si fa veramente male. Il fatto è che è sempre riparato, sempre riparato e ritorna di nuovo come prima. Vuol dire che è mal riparato questa cosa qua. Signor sindaco, se passa un ragazzino, un bambino con la bicicletta, ci va dentro, si fa veramente male. O un anziano, o uno che non ci vede poco anche. Cosa fa, signor sindaco? Almeno, vediamo, faccia lei qualcosa, signor sindaco. Io so che lei qualcosa lo fa e immediatamente. Sono sicuro che domani che torno o dopo domani sarà senz'altro riparato questo buco eterno. È sempre eterno questo buco, signor sindaco. Bene, salutiamo.